Buongiorno e bentrovati con questa edizione di Mattino 6, venerdì 6 dicembre 2019, pronti per spogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali. Iniziamo con le prime pagine delle testate locali, siamo sul centro edizione di Pescara, sardine stop al traffico e polemica, il teatro in piazza apre domani prima dell'evento, boicottaggio. E poi ancora a centropagina la fotonotizia, giocata a San Donato la schedina da un milione di euro. Andiamo poi a vedere i richiami di cronaca, assalto per le pensioni, ritrovata l'auto della rapina a Montesilvano, è stata ritrovata sulla collina di Montesilvano l'auto, una jeep rubata in Molise utilizzata dai quattro banditi per assaltare in via Vestina a Montesilvano il furgone blindato che lunedì scorso trasportava i soldi delle pensioni. E poi a Francavilla, pestaggio sotto l'ombrellone, due cugini, un uomo e una donna rischiano di essere processati per aver pestato il giorno di ferragosto dopo una nita in spiaggia, un 52enne di Bucchiani, corrompendogli il naso e la mandibola. E poi ancora allarme a popoli, la granguizza, troppe tasse posti a rischio. Il governo, aiuteremo le periferie, leggiamo in taglio basso, a Pescari, il vice ministro dell'interno Mauri incontra la donna di Rencitelli, vittima di un attentato. In taglio basso, il buongiorno abruzzo di Giuliano Di Tanna, Ciro l'immortale, dalla fama alle pizzerie. Tutto ciò è legato a una intervista di Marco D'Amore, l'interprete di Ciro Di Marzio in Gomorra, che sogna in futuro, chissà, di aprire una pizzeria a Mergellina. Andiamo avanti con l'edizione terramana del centro. Ecco qui l'apertura. Il Natale si accende con 50 eventi. Teramo musica con pigro, ai tigli il bosco incantato, incerta la star di fine anno. Vediamo sotto la testata, il va di Taranto, Arcelor Mittal Conte contro il piano. Così non va. E poi ancora a Salle, lapide che inneggia al duce, il sindaco la fa rimuovere. La Costituzione al suo posto. Scendiamo a centropagina con la fotonotizia. Amore Donenzo Chiarini, una vita spesa per gli altri. Il sacerdote per 50 anni, missionario in Burundi. I richiami di cronaca. Università arriva, il corso di scienze gastronomiche. Nuovo anno accademico all'università. Si apre con tre nuovi corsi e altri sono in cottura, è il caso di dirlo, per il prossimo. Infatti l'anno accademico 2020-2021 porterà un corso di laurea triennale in scienze gastronomiche. E poi ancora ad Atri, al Via, il progetto per il nuovo commissariato. Il comune di Atri approva il progetto esecutivo per la costruzione del nuovo commissariato di polizia e della nuova sede adibita alle emergenze ComCoc. Costerà 4 milioni di euro. A Tortoreto scomparso l'ex sindaco Benito Esposito. E poi ancora, in taglio basso, caso Santoleri. Intercettazioni shock. Giulianova in aula. Ascoltate le registrazioni delle conversazioni tra i due imputati. Andiamo a vedere ora l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro. L'apertura dedicata alla cronaca. Aggredito a pugni e colpi di mazza. Chieti, spedizione punitiva al centro d'ama. Un 42enne all'ospedale. E poi la fotonotizia. Sempre la cronaca. Arresti in città per i fiumi di droga dalla Camorra. Tutto questo a Lanciano. Blitz della polizia vicino ai Bollaro, uno dei capi della banda. E poi i richiami di cronaca. Torino di Sangro. Donna uccisa. Mamma 94enne all'ultimo saluto. In tanti. Ieri si sono stretti attorno alla famiglia di Luisa Ciarelli. 65 anni. Uccisa una settimana fa dal marito Domenico Giannicchi di 68 anni. Al culmine di una lite in un campo. All'esequi è anche velia. 94 anni. La mamma di Luisa. E poi nel Chietino sempre a Filetto. Scheda contesa. Una perizia per decidere il sindaco. La perizia di un esperto grafologo su una scheda contestata. Deciderà se Filetto tornerà al voto. A ordinarla ai giudici del Taro dopo il ricorso del candidato sindaco sconfitto per una preferenza. Lo sport, il basket, fibrillazione nell'esa Chieti. Marchesani pronto a lasciare l'esa Chieti. In taglio basso. Sovrintendenza Chieti alza la voce. Riforma contestata. La competenza della città non è più regionale. Protesta il sindacato. Edizione aquiliana del centro. Ancora la cronaca in apertura. L'operaio tradito da un prestito. Delitto di Barisciano. Il movente economico spunta dagli interrogatori. La foto. Notizia a centropagina. Alloggio del progetto case alle famiglie di bimbi malati. Gara di solidarietà all'Aquila. E sempre all'Aquila. Telecamere. Ecco il progetto da 4 milioni. Il comune ha dato il via libera a uno studio per sistemare telecamere di videosorveglianze in città. Controllate, rivandari e rapinatori e a tutela dei monumenti. Il costo dell'impianto da realizzare supera i 4 milioni. Ad Avezzano certificati per gli atleti. Visite bloccate. Atleti sul piede di guerra per lo stop alle prenotazioni per le visite medico-sportive alla ASL. Effettuare le prenotazioni per il rinnovo dei certificati di idoneità per fare sport è impresa impossibile. A Sulmona. Addio dell'arma al maresciallo. Morto sui monti. In taglio basso accende una sigaretta. Esplode l'auto. A trasacco. Pensionato ustionato al volto dalla fiammata. Fuga di gas dall'impianto. GPL. E ora siamo sul messaggero Abruzzo. L'apertura dedicata all'inchiesta Rigopiano. Rigopiano i buchi nell'inchiesta. Strage nel resort. Via la quarta indagine. Accertamenti sull'operato di polizia e carabinieri. Nel territorio. La mafia di Bari diretta da Pescara. Andiamo sotto la testata. Il processo Papà Santoleri. Il perito dice che non era in grado di uccidere. Autostrada. Allarme sicurezza. Il ponte del Cerrano adesso rischia di essere chiuso. E per lo sport. Calcio di Serie B. Pescara contro il Venezia. Inizia il rush finale del girone. Le parole del centrocampista Luca Crecco. Ci aspettano cinque partite difficili e il campionato appare molto equilibrato. Segnare mi manca. Sarebbe bello tornare a festeggiare davanti ai nostri tifosi. E poi di spalla. Gli orsetti giocano contro... Pardon. Gli orsetti giocano sotto l'occhio della Spycam. I cuccioli hanno forse perso la madre che ora viene cercata nella zona. In taglio medio c'è la fotonotizia. Sono sotto sciocco. Ho fatto il possibile. In riferimento all'incidente avvenuto in Austria a Innsbruck. Parla l'autista al volante. L'altro è morto. C'erano dei turisti di appunto Pesco Costanzo. Queste le parole dell'autista. Andiamo sempre in taglio medio. Noi numero uno. Gli spacciatori si vantavano su Facebook. Lanciano stroncato un traffico di droga. Cinque arresti. Coca trasformata in crack. E poi in taglio basso l'Aquila. Ispezioni di Natale. Sigilli ai panettoni. La città. Il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura. Teramo lavoro. Ora è storia. La Cassazione conferma la condanna per peculato dell'ex manager Cretarola. E poi un taglio alto. Omicidio Rapposelli incastrato dal suo cellulare. La rubrica. Attenzione alla truffa del web marketing. In taglio medio. La fotonotizia. Addio Donenzo. Amico degli ultimi. Il prete di isola stroncato da un infarto in Burundi. Di spalla. l'assessore. Anche il piano asfalti vuol dire bellezza. Dice appunto l'assessore delegato Valdo di Bonaventura. E poi atteso dagli anni 90 al Badriatica avrà il suo piano traffico. E poi ancora Natale Teramano e voglia di rialzarsi oltre 50 eventi nel cartellone allestito per le feste dal comune di Teramo. In taglio basso. Roseto degli Abruzzi. Iniziati i lavori per realizzare 360 loculi al cimitero di Roseto. Su fronte istituzioni approvato il progetto del nuovo commissariato di polizia di Atri. Lasciamo le testate locali. Andiamo sulle nazionali e partiamo da Repubblica. Ecco qui l'apertura. Di Maio frena. Il governo respira. Parlamentari 5 Stelle che preparano un documento contro il leader e lui abbassa i toni su prescrizione e salva stati. Ma sulla manovra è ancora scontro. Tagliate le tasse su auto e plastica. Conte ora trovare altre risorse. Il va il contropiano di Patuanelli. Posti salvi con nuove tecnologie e aziende di Stato. E poi ancora in taglio medio la fotonotizia. Lo sciopero blocca la Francia. Parigi brucia. Un milione in strada contro la riforma delle pensioni di Macron. E poi ancora in taglio basso la confessione di Fedez. Rischio la sclerosi multipla. Il rapper in lacrime. Devo stare sotto controllo. Prima pagina del Corriere della sera. L'apertura. Manovra. Scontro sulle tasse. Italia Viva. No alle misure su plastica e zucchero. Salta l'intesa. Oggi nuovo vertice. Conte sull'Ilva. No al piano Mittal. Salva stati. Parla Dombrovskis. L'automatismo mai esistito. E poi ancora di spalla l'annuncio di Nancy Pelosi. Via libera all'impeachment di Trump. Abuso di potere. Questa l'accusa. La speaker Pelosi dà il via libera all'impeachment del presidente Trump per abuso di potere. Entro Natale ci sarà il voto della camera. Se volete mettermi sotto accusa fatelo ora e fatelo presto. La replica del presidente. E poi in taglio medio la fotonotizia. Martina e Benedetta. I sorrisi e le rivalità. Le notatrici italiane oro e argento agli europei in vasca corta. E poi per la cronaca uccide il ladro. Pensavo solo a spaventarlo. Il custode di una tenuta nel bolognese. E poi ancora firmato l'atto di clemenza Mattarella. Grazie a Bossi per l'insulto a Napolitano. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina della stampa. Manovra rissa fra alleati ma Conte studia l'agenda fino al 2023. Prescrizione. Il PD si affida alla alla mediazione del premier e a un piano B. Vertice di maggioranza aggiornato verso il compromesso su auto e plastica. E poi la fotonotizia. Francia bloccata dalla rivolta contro la riforma delle pensioni. La prima pagina del fatto quotidiano. FCA andò all'estero e non pagò un miliardo e mezzo. Quota Chrysler sottostimata di 5 miliardi. Nel trasloco da Torino in Olanda e Regno Unito il trucco per abbattere l'imponibile. La difesa. La nostra valutazione era giusta. E poi sotto la testata ci sono questi due richiami. I dati IMSS. Già 2,5 milioni di beneficiari. Il reddito di cittadinanza ha dimezzato la povertà. L'Istituto calcola che l'indigenza assoluta è divinita del 59-60%. Idem per la disuguaglianza. In ritardo le politiche attive per il lavoro l'hanno trovato in 14 mila. E poi scioperi a oltranza e trasporti fermi. Francia paralizzata. Sberla al riformismo di Macron. Oltre un milione e mezzo di persone in piazza e scontri con il black bloc a Parigi per il primo giorno di mobilitazione contro la riforma pensionistica voluta dall'Eliseo. Andiamo sulla prima pagina del messaggero. Tasse giù. Manca mezzo miliardo. Sfida sulla manovra. Renzi via le imposte su plastiche bibite. Conte a Gualtieri. Trova le risorse. Salva stati Di Maio. Passi avanti ma ancora non basta. Scontro. Mef Lega sull'uscita dall'Euro. E poi sotto la testata ancora le lacrime di Fedez. Ora sto bene ma sono a rischio sclerosi multipla per il calcio. Stasera l'anticipo di Serie A. Roma a San Siro per fermare l'Inter di Conte. Il miono a Totti. E poi il futuro dell'Ilva. Il premier boccia gli esuberi di Mittal nel piano cassa integrazione e l'ingresso dello Stato. Taglio medio. La fotonotizia dedicata allo sport. Quadarella d'oro e la regina di Scozia. La romana trionfa negli ottocento agli europei. Caramignoli terza. E poi ancora sempre in taglio medio. Rigopiano. Allarmi ignorati nel mirino. Polizia e Carabinieri. Parte la quarta inchiesta sulla tragedia. Alla guardia di finanza l'incarico di fare accertamenti. Andiamo sulla prima pagina del tempo. Ora provano a spremere FCA. Il fisco contesta la fusione con Chrysler del 2014. L'agenzia delle entrate sostiene che la preda americana fu stimata a 5 miliardi meno del suo valore. Arrivato in extremis l'accertamento che punta a spillare 1,4 miliardi di tasse. Ma il gruppo si ribella. In taglio medio. Il tempo di Oscio. Salvini scopre che usa nocciole turche e sciopera. Ho smesso con la Nutella. Mamma mia manco più l'odore posso sentire nel virgolettato del tempo di Oscio. E poi ancora di spalla manovra. Il governo si accorge. Ci sono troppe tasse. Renzi minaccia il voto. E poi in questo fatto di cronaca grave avvenuto in una scuola di Ostia. Bimbo di 11 anni muore a scuola. Andiamo sulla prima pagina di Libero. L'apertura. Governo. Un mess di vita. Ormai Conte punta al suicidio. È iniziato il conto alla rovescia per chiudere l'esperienza giallorossa. Troppi ostacoli insuperabili. Taglio dei parlamentari. Ilva. Autonomia. Giustizia. Pressioni europee. Giù il sipario dopo la manovra. Sei italiani su dieci non sanno neppure cosa sia il fondo salva stati. Poi questa doppia foto notizia a centropagina. Monti bacia le sardine che già accusano malori. Il senatore a vita le seguo con molto interesse. Poi Fedez sono a rischio sclerosi multiple. Il cantante dice ora devo scegliere le mie battaglie. Andiamo sulla prima pagina della verità rivolta nelle università. Non firmate il MEF contro la trappola europea che ci ha regalato Conte. Ben 32 economisti per lo più di sinistra e di 13 atenei sottoscrivono un documento con l'alto lal governo. Il fondo salva stati può avere conseguenze molto gravi per l'Italia. A giugno lo dicevano anche i dem. Ora invece sostengono che è propaganda leghista. Poi la fotonotizia. il fisco chiede 1,3 miliardi agli agnelli. In taglio medio a Bibiano le vittime sono i bimbi non il PD. Il sindaco scarcerato ma sempre indagato si dipinge come un crocifisso e tutto il partito gli fa il coro. Non una parola sui piccoli strappati ai genitori e dati in pasto a lesbiche violente o a pedofili. Andiamo sulla prima pagina dell'avvenire. L'apertura. Droga mortale. Relazione al Parlamento sugli stupefacenti. Crescono l'uso e le vittime. 334 ammestre la battaglia antispaccio degli operatori. Così salviamo i ragazzi. Un allarme per le nuove sostanze sconosciute e poi l'epidemia della cannabis tra i giovani. Poi andiamo a centropagina con la fotonotizia dell'avvenire. La chiesa che accoglie i profughi dopo l'appello delle Mosiniere. Il racconto di ciò che si fa in Italia. Per la politica governo in bilico divide la manovra. Renzi attacca sulle tasse. Giustizia. Disgelo. Movimento 5 Stelle. PD. La prima pagina del manifesto che apre con il muro di plastica. Nulla di fatto nel lungo vertice di maggioranza per disinnescare la mina renziana contro le tasse su plastica e zucchero. Il Premier ci riprova oggi. Schiarita invece sul MES all'Eurogruppo. L'Italia ottiene un rinvio a gennaio. Gualtieri soddisfatto ma a di maio non basta. Andiamo sotto la testata. La rivolta francese per la pensione. Un milione e mezzo in piazza contro la riforma. A Parigi scontri tra polizia e black block. Andiamo a chiudere questo segmento di mattino 6 con la prima pagina del sole 24 ore. Appalti. Robin tax ritenute plastica. Imprese in rivolta per la manovra 2020. I distributori di energia scrivono a Conte. Il rincaro Ires colpisce anche gli utenti. Sul regolamento Appalti lancia e sollecita una svolta pari diritti con la pubblica amministrazione. E poi la fotonotizia. Nei primi nove mesi produzione giù del 2,5 per cento. Metal meccanica in caduta con l'auto. E poi in taglio medio manovra. Manca ancora l'accordo sulle corrizioni. Oggi nuovo vertice. Caccia ai fondi per bloccare la plastic tax. Fiducia della Camera al DL fiscale. E poi Francia sfida a Macron sulle pensioni. Riforme nel mirino. Paralisi dei trasporti. Decine di migliaia in piazza. Scontri a Parigi. Lasciamo i quotidiani nazionali e torniamo sui quotidiani locali. Lo facciamo con pagina 2 del quotidiano Il Centro. Ecco qui l'apertura di pagina. Edison interverrà subussi per la messa in sicurezza. I lavori riguarderanno i terreni delle discariche con il manto danneggiato. L'emergenza era stata segnalata al Ministero dell'Ambiente dal gruppo PD. I lavori annunciati dalla società per spirito collaborativo e nei limiti della norma vigente. Poi Blasioli. Il consigliere regionale Blasioli aggiunge va riattivata anche la stazione di pompaggio dell'acqua di emulsione. E allora vediamo il servizio realizzato proprio sulla discarica di bussi ieri dal TG6. Il telo che ricopre i rifiuti tossici di bussi è squarciato. Si tratta del capping, un geotessile che ricopre la discarica più grande d'Europa affinché le acque piovane non attraversino i rifiuti, andando a contaminare le falde acquifere, il fiume Tirino e quindi il pescare al nostro mare. L'Edison S.p.A. però, ritenuta responsabile del disastro ambientale, pare che si accollerà agli interventi di messa in sicurezza. Per Antonio Blasioli, membro della commissione d'inchiesta su bussi, capeggiata da Giovanni Lenini, questa è una vittoria. Ieri Edison, pur dicendo di non fare acquiescenza naturalmente a queste richieste, pur non riconoscendosi soggetto inquinatore al di là di quello che dice l'ordinanza della provincia di Pescara, che pur è stata impugnata, naturalmente cose che noi contravveniamo assolutamente, ha deciso comunque di intervenire. Ha chiesto praticamente al Ministero tutte le specifiche tecniche, non solo per rimettere a posto questo capping e quindi ripristinare le misure di sicurezza e di emergenza, che significa evitare l'inquinamento che ancora continua, ma soprattutto di rivedere anche l'impianto di pompaggio. Intanto per la bonifica dell'aria sono stanziati da oltre un anno 48 milioni da parte del Governo e un milione e mezzo dalla Regione, ma nulla è stato ancora fatto. Giovedì prossimo il Ministero dovrebbe comunicare i tempi della bonifica. Questo è un progetto lunghissimo, complesso, ciclopico, sicuramente non basterà la nostra attività, sicuramente occorreranno ancora degli anni, però se non si lavora questi risultati non si ottengono. Busi ormai tristemente associata al disastro ambientale. L'ex Montedison produce qui mercurio, piombo e clorometani fin dal 1962 e nell'area metropolitana di Pescara vi è un'incidenza di tumori riconducibili all'inquinamento maggiore che nel resto della Regione, ma nessuno sembra voler rinunciare all'impianto chimico. La commissione di inchiesta si dovrà occupare della qualità ambientale, del diritto alla salute, del diritto alla reindustrializzazione di bussi, perché questa è una delle zone principali industriali di tutta Italia, soprattutto per quello che riguarda il polo chimico. Proseguiamo sempre su pagina 2 del centro, trasporti, ferrovie, termini, resta l'hab dei treni abruzzese, lo ha annunciato il sottosegretario della Presidenza della Giunta regionale, Umberto D'Annuntis. Poi in taglio basso, Start Cup, sfida tra imprese a Chieti, oggi al campus universitario la finale della prima edizione del concorso. Poi ancora, da Alessandro a De Micheli, a 14 il pedaggio va ridotto, il deputato scrive al ministro. Poi ancora, a pagina 3, porti un patto per entrare nelle reti dell'Unione Europea, giovedì 12 la firma dell'intesa tra il governatore Marsilio e Giampieri, presidente dell'autorità portuale di Ancona. E poi in taglio medio, logistica militare, occasione per Ortona, lo scalo portuale abruzzese potrebbe rivelarsi strategico nel piano europeo di military mobility, il budget europeo per il piano di mobilità militare di 6,5 miliardi di euro nel periodo 2021-2027. In taglio basso, la vicenda del comune di Salle nel Pescarese, il sindaco fa rimuovere la lapide fascista e degli anni 30 è stata ritrovata murata e murata sei anni fa, morante al suo posto. Metteremo la Costituzione. Andiamo avanti, pagina Abruzzo, pagina 11, argomento mercato immobiliare, rallentano i mutui casa, importo medio 97 mila euro. Nei dati elaborati da Tecnocasa si registra nel trimestre una flessione del 14,5%, il risultato peggiore in provincia di Pescara con una caduta del 18,1%. E poi ancora lavori post-sisma, sicurezza nelle strade 5 milioni all'Abruzzo e poi premio giornalistico Polidoro. Ecco tutti i premiati, in particolare la giornalista Adele Di Felice Antonio è la vincitrice della diciottesima edizione del premio Polidoro. Andiamo avanti, siamo in taglio basso, Cantina Tollo, 11 medaglie alla China Wine Competition, il vino abruzzese sui mercati esteri. Sempre sul fronte del mercato del vino, Pescara e i sommelier dell'Ais presentano la nuova guida. Andiamo ora sulle pagine di Pescara, il vice ministro in città, Mauri, sicurezza sotto controllo, le periferie verranno aiutate, reati in calo del 30%, ma nei prossimi giorni invieremo a Pescara rinforzi di polizia e carabinieri, vertice con le istituzioni in prefettura, poi l'incontro con la donna che ha subito l'attentato incendiario. Poi ancora Rigopiano in procura il coordinatore del centro soccorso Luca Verna, sentito come testimone, ha detto di non sapere nulla delle richieste di aiuto arrivate dal cameriere D'Angelo. Andiamo ora su pagina 16, domani la manifestazione, ecco le sardine, stop al traffico, ma il comune ci boicotta, sono attese migliaia di persone, 14.600 adesioni su Facebook, divieti di sosta e transito dalle 14, spostata dalle 11 alle 17, poco prima dell'evento l'apertura del Dom Theater, scoppia la polemica. avanti ancora giocata a San Donato la schedina milionaria, ha vinto un operaio l'exploit al Million Day nella tabaccheria di Elena Parente, la titolare nessuno si è fatto vivo, neppure per dire grazie. Avanti ancora con la vicenda della ricercatrice morta in Scozia, l'ultimo dono di Spano, una borsa di studio per giovani neolaureate. La scienziata è scomparsa improvvisamente tre mesi fa a 47 anni, l'iniziativa voluta dal marito per avviare donne alla carriera scientifica. Giovedì la presentazione del bando tra i requisiti, il legame con Abruzzo e Molise. Siamo alle pagine di Montesivano con gli eventi natalizi in città, presepi, mercatini e concerti, un mese dedicato alle feste. Il comune ha investito 50 mila euro dall'8 dicembre via agli appuntamenti. Grangala con la Molinari, il 23 finale con Barbara Chiappini e le Befane in 500. Proseguiamo. Siamo sempre sulla cronaca di Montesivano. Pensioni rapinate ritrovata in collina la Jeep dei quattro banditi. Montesivano rubata in Molise, l'auto usata per il colpo da 70 mila euro svuotato estintore per cancellare le tracce. Avanti ancora siamo a Francavilla al mare, pestato allo stabilimento il giorno di Ferragosto sotto accusa due cugini. La vittima in ospedale con la mandibola e il naso fratturati, colpito in faccia anche con una boccia, una donna tra gli aggressori. Avanti ancora siamo in Val Pescara, la Gran Guizza, troppe tasse, sono a rischio 174 posti di lavoro. Acque minerali coinvolge anche lo stabilimento di popoli. L'allarme è lanciato dal gruppo San Benedetto. Le misure fiscali del governo possono causare disoccupazione e aumento dei costi per i consumatori. Andiamo ora sulle pagine di Chieti, ma qui siamo sulla cronaca che arriva dalla provincia, in particolare da Lanciano, smantellata la banda del crack, fiumi di droga dalla Camorra. In città il centro dello spaccio scattano gli arresti della polizia. Uno dei capi vicino al clan dei Vollaro di Portici. Proseguiamo e qui siamo a Chieti, sempre con la cronaca. Botte a Chieti, il ferito in ospedale, aggredito con pugni e colpi di mazza. Un uomo di 42 anni, vittima della spedizione punitiva, forse per una questione di soldi, scattano le indagini della polizia. In taglio medio anche mamma Velia dà l'addio a Luisa Torino di Sangue al funerale della Ciarelli di 65 anni, uccisa dal marito. L'anziana madre di 94 anni. In taglio basso, sovrintendenza, la riforma non piace, la competenza di Chieti non è più regionale. Il sindaco protesta, drastica riduzione. Ora le pagine di Teramo. Muore Donenzo Chiarini, una vita dedicata agli ultimi in Burundi. Due comunità in lutto. Il missionario stroncato da un infarto in Africa dove aveva fatto costruire scuole e ospedali. Aveva 76 anni, di cui 50 trascorsi a portare aiuto. La Salma rientrerà a Teramo. Il cordoglio di amministratori e volontari che con lui hanno collaborato a svariati progetti. Andiamo avanti. Atri. Ok. Alla costruzione del nuovo commissariato. Il comune approva il progetto esecutivo. L'opera costerà 4 milioni. Il nuovo edificio ospiterà anche il centro per le emergenze ed una palestra. Infine le pagine dell'Aquila. Intanto con l'omicidio di Barisciano il punto sulle indagini. Operaio tradito da un prestito di soldi. Il movente economico spunta dagli interrogatori. Sentito anche chi ha eseguito i lavori edili da lui. L'ipotesi. Cani narcotizzati. E poi ancora in taglio medio sì alle telecamere contro vandali e ladri. L'Aquila passa in giunta il megaprogetto da 4 milioni per realizzare un sistema di video sorveglianza. E chiudiamo con quest'ultima pagina la prima parte di mattino 6. Accende una sigaretta. Esplode l'auto pensionato di 71 anni. Ustionato al volto dalla fiammata. Lo scoppio provocato da una fuga di gas dall'impianto GPL. Paura a Trasacco. Ci fermiamo dunque qui con la prima parte di mattino 6. Spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi quando rientreremo vedremo altri servizi e spoglieremo le pagine del messaggero della città e quelle dello sport. Di nuovo buongiorno. È la seconda parte di mattino 6 che riprende con le pagine del messaggero Abruzzo. Andiamo subito a vedere la regione verso il 2022. Piano triennale, niente ospedali e poca cultura. Il documento di programmazione che prelude al bilancio contiene molte enunciazioni generali. La priorità il ritorno alla crescita. Tasse giù per chi farà innovazione. Poi ancora in taglio basso Mazzocca. Non siamo al sicuro dal progetto degli inceneritori. La giunta abruzzese di centrodestra potrebbe cambiare idea sotto il pressing continuo di Salvini. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Pescara con l'inchiesta Rigopiano. così sparì la telefonata chiave. Via all'inchiesta Quater la guardia di finanza passa al setaccio. Archivi e computer di squadra mobile e carabinieri forestali. La procura punta a risolvere il pasticcio dell'informativa sulla chiamata di soccorso rimasta nell'ombra per 18 mesi. Il rebus della richiesta del cameriere D'Angelo rilevata dalla polizia il 27 gennaio del 2017 rischia di pesare sui due processi in corso. Una relazione dell'ex dirigente Muriana e i servizi di TGR Abruzzo e Iene mettono in moto i PM Serpi e Papalia. Poi ancora riunione carbonara parla l'ingegner Verna, il funzionario dei vigili del fuoco ascoltato in procura sullo scontro verbale avuto il 24 gennaio con l'ex prefetto. In taglio basso lo Stato accanto alla donna vittima delle ritorsioni dei boss, il numero 2 del Viminale Mauri affronta la questione Rancitelli, vertice in prefettura, poi assemblea nel quartiere. Proseguiamo e siamo sempre a Pescara. Corsa per il bilancio entro fine anno. Consiglio in aula il 18. La seduta affronterà DUP, triennale e conto di previsione, seccia a fretta, l'opposizione vuole più fondi per il sociale. Poi ancora l'approvazione consentirebbe di sfruttare subito le risorse 2020 enti stanziate nei vari capitoli di spesa. Tre stazioni di bike sharing nel 2021, pardon, nel 2021 l'assessore Albore Mascia ha illustrato ieri a Ravenna il progetto Sutra finanziato con fondi europei. Andiamo avanti, torniamo alla cronaca, agli affari pescaresi del boss barese. Ai domiciliari in città Domenico Milella, capoclan della mafia garganica, gestiva il traffico di stupefacenti. La presenza svelata da un'indagine della Didia di Bari, nella sua casa un via vai di affiliati per prendere ordini. La sua permanenza è stata accertata tra il 2014 e il 2016, cambiava telefono per sfuggire alle intercettazioni. Cambiamo decisamente argomento, in questa pagina pattini e cioccolata aprono le feste, concerto di Simona Molinari il 23. Siamo chiaramente al cartellone di Natale del comune di Montesilvano, il sindaco De Martinis svela il ricco cartellone mercatini ed eventi da domenica fino all'Epifania. Vediamo il servizio del Tg6. Sindaco, un mese di grandi eventi a Natale, ci sarà davvero da divertirsi per tutti i gusti? Abbiamo realizzato un cartellone di tutto rispetto, io penso di poter dire il migliore degli ultimi anni, degli ultimi dieci anni. Abbiamo pensato al centro città quale sede principale di questi eventi, come è giusto che sia. Abbiamo regalato degli eventi per i più piccoli, degli eventi per la famiglia, abbiamo accontentato anche una fascia giovanile seguendo un percorso iniziato in questa estate. Ci sono tutti gli ingredienti perché la città possa finalmente avere un Natale degno di questo nome. Non posso non sottolineare quanto ancora una volta l'elemento più importante sia stata la sinergia con i commercianti, con le scuole, con le associazioni che hanno impreziosito il cartellone natalizio che già noi amministrazione avevamo in qualche modo pensato e allestito. Abbiamo qualche evento che veramente rappresenta una chicca per il nostro territorio. Il primo è il Gran Galà di Natale, il 23 dicembre al Paladin Martin come grandissima e greatissima ospite Simona Molinari, che era venuta proprio quest'estate a ritirare il premio di Martin e ha mantenuto la sua promessa di regalare, di donare un concerto alla nostra Montesilvano. Il secondo grande evento che noi abbiamo intenzione di portare è il concerto di Piero Mazzocchetti, Montesilvanese Doc, quindi è giusto che vengano valorizzati i nostri talenti sempre al Paladin Martin il 29 di dicembre. Abbiamo dato molto spazio quest'anno alla giornata della Befana perché abbiamo fatto un connubio con la categoria dei commercianti, per cui porteremo la Befana in centro. Quest'anno tutti gli eventi saranno incentrati proprio sul centro di Montesilvano, quindi la pista di ghiaccio sarà al centro, rivitalizzeremo via Roma, in cui i lavori sono terminati anche con una bellissima fiera del cioccolato. Per quanto riguarda la Befana ci sarà un ospite speciale, una showgirl, Barbara Chieppini, che distribuirà dei doni a tutti i ragazzi, oltre ovviamente tutto il territorio chiuso al traffico del centro, per presentare dei momenti canoni, dei momenti di svago sia per i cittadini montesilvanesi che per tutti coloro che vorranno partecipare. Sul messaggero le pagine dell'Aquila, subito la cronaca, il NAS sequestra 60 panettoni in una nota azienda dolciaria. Dubbi sulla tracciabilità del prodotto, ma tutti gli altri controlli sono regolari, il titolare si difende, ci vengono contestate soltanto le etichette per mancanza di un dato. Iniziate le verifiche dei carabinieri in vista del Natale, riguarderanno tutto il settore alimentare della regione. Sul fronte assistenza, visite, liste d'attesa, giudizi positivi, ma anche criticità. E poi ancora, di nuovo la cronaca, l'indagine sulla pedopornografia, 20 euro e sigarette per fare sesso con la ragazzina. Il 54enne finito ai domiciliari si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice. Sempre all'Aquila, piazza d'armi, il parco finisce in procura. La commissione territorio accoglie l'istanza di De Santis, dell'IDV, in impresa che si è aggiudicata. L'appalto ha chiesto il concordato. Lavori assegnati all'Arialto con un ribasso da record. Poi la ditta ha chiesto una variante di ben 5 milioni. E poi ancora in taglio medio la sanità buona, ospedale, inaugurata la foresteria per i genitori dei piccoli pazienti. L'appartamento offerto dal comune, Zonfa e altri chef staccano un assegno di 12 mila euro. Ieri l'inaugurazione. Andiamo avanti. Sono sotto shock. Ho fatto il possibile. Schianto in A13. Danilo Reinaldi, 23 anni, proprietario del bus, ha sterzato per evitare l'urto dopo l'improvvisa frenata di un tir. Nell'impatto è morto Remo Di Marco, 63 anni di Sulmona, l'autista che per un malore aveva lasciato la guida. al collega. Andiamo ora sulle pagine di Chieti. Commissioni, spesa a record, arriva all'alto là di Di Primio. Costi per oltre un milione dal 2015 a oggi. Quest'anno si va verso quota 240 mila euro. Sindaco invoca il rispetto del regolamento. Si evitano strumentalizzazione e attacchi. E poi ancora lettera inviata ieri ad Aceto che oggi incontra i presidenti di Spalla. Niente rimborsi. Le librerie ora minacciano denunce. Il comune non rispetta la scadenza di novembre. Forse manca una firma. In basso del Zotti, talent scout del calcio in Nigeria. L'ex allenatore del San Buceto dice mi colpisce la passione della gente del posto. Avanti ancora e torniamo alla cronaca droga. Scacco alla banda dello spaccio. Operazione numero uno in cinque. Gli arresti domiciliari e misure cautelari per altri quattro. Sono tutti lancianesi. La cocaina purissima veniva cotta e trasformata in crack. Un anno fa la polizia ha bloccato i capi legati alla camorra. Il questore Ruggero Borzacchiello ha elogiato il lavoro condotto da Lucia D'Agostino alla guida del commissariato. Vediamo il servizio. Per la prima volta si spaccia crack nella città di Lanciano. Lo hanno scoperto gli agenti del commissariato di polizia diretti dal vicequestore Lucia D'Agostino. L'operazione di polizia è stata denominata numero uno perché il gruppo criminale riteneva di detenere il primato dello spaccio di droga in città e se ne vantava anche sui social. Dieci le ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Lanciano Canosa su richiesta del sostituto procuratore Carusi. Per uno di loro minorenne il deferimento alla procura dei minori dell'Aquila. Il suo dalizio è stato spiegato in conferenza stampa dal dirigente del commissariato e dal questore di Chieti Ruggero Borzacchiello operava come un clan camorristico in aree decentrate di Lanciano per non sovrapporsi alle attività storiche dello spaccio di droga in centro a pannaggio di altri. Facevano tutto in casa a Santa Maria in Baro. Cuocevano la cocaina purissima al 96% poi tagliata con altre sostanze per farla diventare crack. Una dose da 0,2 grammi veniva venduta a 20 euro. L'operazione conclude le indagini avviate un anno fa quando furono eseguiti i primi arresti. A capo del gruppo c'era Federico Irollo che aveva stabilito il coordinamento, direzione e smistamento dell'attività di spaccio all'interno della sua dimora mentre era agli arresti domiciliari. In collaborazione con il genero Ciro Iengo organizzava il traffico degli stupefacenti. Attraverso i collegamenti diretti con la campagna, regione di origine di entrambi, il gruppo si approvvigionava di cocaina per poi trasformarla in crack e organizzava lo spaccio sul territorio frentano. Irollo e Iengo, già condannati in primo grado a sei anni di reclusione per la precedente operazione di polizia di un anno fa, sono in carcere a Lanciano. Dopo l'arresto di Irollo e Iengo l'attività illecita è stata trasferita all'interno di alcune dimore dei sodali dove proseguiva la trasformazione della cocaina in crack, oltre al confezionamento, spaccio e consumo dello stupefacente. I poliziotti hanno documentato durante le indagini oltre 200 cessioni di sostanze stupefacenti, sequestrati complessivamente oltre 100 grammi di cocaina purissima, 130 di hashish e 8 piante di canapa indiana, del peso di circa 200 grammi, pronta per essere immessa sul mercato illecito. Sempre sul messaggero le pagine di Teramo, ecco qui pronto soccorso con radiologia per dimezzare i tempi d'attesa, medici e infermieri in prima linea, code, interventi ma anche elogi su Facebook, ma c'è pure chi si mette in fila ore per bypassare le liste d'attesa di esami. Flavia Di Giangiacomo, primario facente funzioni, parla dell'importanza di una sala d'osservazione. Poi ancora di spalla, fine anno con Pigro Senese e Max Gazzei, il sindaco. Quest'anno abbiamo esteso i luoghi del Natale nelle frazioni e nei quartieri, la presentazione del cartellone eventi del comune di Teramo. Più tardi vedremo anche il servizio. Cani senza casa sistemati in una vecchia scuola e sfrattati di nuovo. Laura Villanova, avevo sistemato i miei animaletti in un terreno ma sono stata buttata fuori, dice appunto l'affidataria dei cagnolini. Avanti ancora siamo sulla costa Teramana, Frana e Giunti, vi adotto a rischio chiusura. I tecnici del Ministero hanno ispezionato il Cerrano trovando criticità chiesta all'interdizione del traffico dei tir. Autostrade per ora non ha ancora preso provvedimenti sul tratto Pescara a Tripineto. La situazione è monitorata, ogni decisione verrà presa l'11 dicembre dopo l'incontro tra prefettura e tecnici del MIT. In taglio basso a Giulianova il rustico diventa un ufficio e due case con porticato. Scoperto dalla finanza un altro abuso edilizio nella zona di Colleranensco. Invece a Tortoreto, morto a 95 anni, l'ex sindaco Benito Esposito. Lasciamo il messaggero, ci ritorneremo per lo sport. Andiamo ora sulla città, un quotidiano della provincia di Teramo. Siamo sulla vicenda Teramo Lavoro, sentenza definitiva per il manager Cretarola. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato dall'ex responsabile della società in house. La sentenza appunto due anni per peculato per aver percepito indebitamente 11 mila euro di compensi non dovuti dalla provincia di Teramo. Avanti ancora, ecco la soluzione per il bus ai Melograni. Teramo 3.0 propone di spostare il capolinea della 9 per utilizzare i chilometri allungando le linee 1 e 1 barrato. Avanti ancora, pagina 9, anche il piano asfalti vuol dire bellezza. L'assessore Valdo di Bonaventura dice oltre le buche c'è un'idea di decoro cittadino da portare avanti. Pagina 11, la voglia di rialzarsi nel Natale Teramano. Oltre 50 gli eventi del cartellone che interesseranno sia i luoghi istituzionali che quelli identitari. L'inaugurazione, come da tradizione, le luminarie in piazza lungo il corso saranno accese l'8 di dicembre. Poi la curiosità, il 28 dicembre Corso San Giorgio riviverà le atmosfere di qualche decennio fa con il ricordo delle vasche. Vediamo il servizio del Tg6. Vivi il Natale meravigliosamente come a casa. È questo lo slogan del cartellone degli eventi natalizi ideato dal comune di Teramo in sinergia con provincia e camera di commercio. Una grande quantità di incontri e iniziative che incanteranno luoghi della cultura, piazze, giardini cittadini fino al 6 gennaio 2020. Un Natale meraviglioso, comunque un cartellone meravigliosamente programmato. Sì, è stato un lavoro molto lungo degli ultimi due mesi, condiviso con gli enti che hanno firmato il protocollo d'intesa, in particolare con il Consorzio dei Commercianti e con l'assessore Core, perché sarà un Natale ricco anche proprio di eventi culturali, di mostre e tanti appuntamenti anche proprio sotto l'aspetto culturale. L'anno scorso è stato il Natale della valorizzazione dei luoghi, dove abbiamo fatto degli investimenti, parlo dei Tigli, parlo di Piazza Sant'Anna, di Piazza Sant'Agostino, della stessa Piazza Martiri. Quest'anno abbiamo aggiunto i contenuti ai luoghi. Faccio degli esempi. Il Bosco Incantato avrà 4 eventi con attori professionisti che reciteranno fiabe per bambini, come è avvenuto l'anno scorso solo, però nell'inaugurazione. Su Piazza Sant'Anna ci saranno 8 appuntamenti dedicati sempre ai più piccoli, con laboratori e spettacoli. Piazza Sant'Agostino vedrà degli artisti molto importanti, terramani, esibirsi in concerto con l'abbinamento chiaramente al cibo che verrà fornito in orario d'aperitivo. Sui concerti di fine anno l'assessore Filipponi non si sbottona, ma è quasi ufficiale che l'anno vecchio a Teramo sarà salutato in Piazza Martiri al ritmo della musica di James Senese, mentre il primo gennaio si festeggerà con Niccolò Fabbi. Appuntamento emozionale l'8 dicembre per l'accensione in contemporanea di tutte le luminarie cittadine. E poi c'è il Capodanno. Iniziamo forte con il pigro, questa volontà di riportare il pigro in città dopo l'evento del buon compleanno Ivan che ha riempito Piazza Martiri. Non potevamo tirarci indietro e quindi inizieremo con il pigro. Poi ci sarà un grande gruppo della scena nazionale italiana per quanto riguarda il 31, un Capodanno che per noi deve essere sempre molto movimentato perché chiaramente con il freddo che c'è in quelle date è necessario muoversi, ballare. E poi il primo c'è un grande artista. Notizie dalla provincia. Addio a Donenzo, l'amico degli ultimi. Il mondo del volontariato piange la morte del parroco ucciso da un attacco cardiaco nel suo Burundi. Nel 1974 iniziò ad operare in Burundi realizzando tantissime opere e progetti umanitarie e ha continuato a farlo per 45 anni. In tanti tra autorità e amici si sono uniti ieri al dolore della famiglia del parroco Terramano. Avanti ancora siamo a Basciano. Sisma, nuovo elenco delle chiese finanziate. Nella lista dei luoghi di culto Terramani torna anche San Flaviano di Basciano. Esclusa nei mesi scorsi. Il sindaco Frattaroli aveva scritto alle autorità chiedendo i motivi dell'esclusione della sua chiesa. Avanti ancora siamo in Val Vibrata. Nuovo piano traffico per Alba Adriatica. L'amministrazione è pronta ad affidare un nuovo studio da completare nel 2020. Un piano per la viabilità era stato redatto nel 2012 ma non è stato mai approvato. Avanti ancora tabulati e intercettazioni incastrano Simone. La vicenda è l'omicidio della pittrice Renata Rapposelli. La ricostruzione dei suoi movimenti nella testimonianza dei carabinieri di Ancona. Simone non la utilizza la scheda dati per giocare al PC proprio nel giorno del litigio e quello del viaggio nelle Marche. Avanti ancora a Roseto. Al via i lavori per i nuovi loculi. Consegnato ieri mattino il cantiere per realizzare 360 fornetti al cimitero di Roseto. L'amministrazione comunale ha acceso un mutuo per superare l'emergenza legata alla carenza appunto di loculi. E poi ancora approvato il progetto del nuovo commissariato. Il comune di Atri prosegue il percorso dopo aver mantenuto il presidio. Inizio dei lavori entro il 2020. Oltre al commissariato di polizia sarà realizzata anche una sede comunale distaccata con centro operativo. Lasciamo ora la cronaca e andiamo alle pagine dello sport proprio con la città. Ecco qui emergenza attacco. Chiaramente si parla di Teramo Calcio. Emergenza attacco. Cianci e Magnaghi out. Le probabilità che i due centravanti recuperino sono poche. Cristini out. L'ASIC sospetto stiramento. Una formazione da inventare. Tedino spera che almeno uno dei due possa essere a disposizione per la partita del Razza. In caso contrario le chiavi della prima liria sarebbero affidate a Martignago e Minelli. Andiamo sulle testate nazionali. Vediamo rapidamente Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Ecco qui l'apertura. Questa sera inizia la giornata di Serie A con l'anticipo tra Inter e Roma. Ecco qui è tosta a San Siro. Eccezionale anticipo alla scala del calcio. Alla vigilia della Tosca Milano ospita una grande sfida tra tenori della Serie A. Lautaro con Lukaku per andare a più 4 sulla Juve. Zagnolo con Gekko per volare in zona Champions. Poi altri richiami in particolare di spalle. Il Sarrismo è in ritardo e c'è la Lazio che correa. Ibra è già a derby. Materazzi ti avevo steso, te lo ricordi. Poi ancora sotto la testata a Quadarella, 800 Turbo. La collezionista di Ori per la Coppa Italia. Parma avanti solo al 91esimo. Cagliari ancora Cerri. E poi il Corriere dello Sport che fa un ritorno sul contestatissimo titolo di prima pagina di ieri. Titolo Black Friday. Ieri tante condanne contro quel titolo. La risposta del direttore Ivana Zazzaroni. Razzisti a chi? Linciaggio contro un giornale che da un secolo difende la libertà e l'uguaglianza. Interna prima pagina dedicata a questa replica. E ora siamo su Tutto Sport. Una doppia apertura. Se così possiamo dire, Juve 20 milioni, occasionissima. Holland, bomber rivelazione del Salisburgo. Ha una clausola rescissoria molto più bassa rispetto alla valutazione. È valida anche per gennaio. E poi Inter, occhio a Zagnolo. Anticipo stellare a San Siro. Torniamo sui quotidiani locali. Andiamo sul centro. Ecco qui domani la sfida col Venezia. Castanos, Pescara rotta sulla Serie A. Il Cipriota confermato a centrocampo. Mai pensato alla salvezza contro i Laguneri. Lex Juventus dovrà sostituire l'infortunato Palmiero. Castrati fermo. Allertato Farelli. Zappa prenderà il posto di Ciofani. Poi ancora per la Serie C. Teramo, mal di trasferta a Rigoni. Cambiamo passo. Due pareggi, cinque sconfitte. Una sola vittoria per il Diavolo. Lontano dal Bonoris, il capitano bianco-rosso. Rendimento al di sotto dell'attesa. Ma è ancora lunga. E poi per i direttanti. Salvatore al Casalbordino. L'Aquila su De Angelis. Rosso-Blu attivi sul mercato. Quasi fatta per la punta della Torrese. Cialdini va all'Atletic Lanciano. E ora una serie di richiami sulla Serie D. Ma c'è anche l'apertura di pagina. Chieti preso Chiocchia. Trevisan rassicura. Pronto a investire. Arriva il difensore ex Altamura. Oggi firma Di Cillo. Il patron. Faremo altri colpi. E si punta su Bonanno. E poi i vari richiami. Appunto sulla Serie D. Sul fronte a Vastese. Anzini in uscita. Via il dirigente Gaeta. Avezzano. C'è Morales. Si stringe per Rabbeni. E poi Pineto. Il Pineto va da Agnone con il bomber Tomassini. E sul fronte Giulianova può partire Bifulco. Campolo di S. Di Paolo. Verso il debutto. In taglio basso. Notaresco. Altro rinforzo. Torna Stivaletta. C'è la firma del centrocampista Vastese. Ho subito accettato. Col Giulianova. Out. Frulla e Marcelli. E andiamo a chiudere con il centro. Con il basket. Ecco qui. Marchesani. Scuote. Chieti. Pronto a lasciare l'ESA. Dopo le dimissioni dell'allenatore Cohen. Anche il presidente minaccia l'addio. Delusione enorme. Non mi sento più rappresentato da questi giocatori. Andiamo a vedere il messaggero Abruzzo. Le due pagine di Sport. Pescara adesso è un rush finale contro il Venezia. Inizia la volata del girone che terminerà il 29 in casa contro il Chievo. Le parole del centrocampista Crecco. Ci aspettano cinque partite difficili. E il campionato è sempre molto equilibrato. E poi ancora le parole di Grigoris Castanos che dice Ora faccio il play e mi sento più maturo. Basket di A2. Bobby Jones, Sharks, fidati di me. Ha cominciato ad allenarsi con i compagni. Se sono in salute posso fare del mio meglio. Ecco qui l'ultima pagina. Calcio di Serie C. Casa Terramo esplode. L'allarme attaccanti. Cianci non è a disposizione di Tedino per un problema muscolare accusato nei giorni scorsi. A rischio anche la presenza di Magnaghi che è un fastidio al tendine rotuleo. E poi la Serie D. La vastese a Matelica. I tifosi si organizzano. Le parole del presidente Bolani. Speriamo di allungare la striscia positiva. Avezzano cambia volto e lancia il nuovo progetto. Cinque acquisti in pochi giorni. Patron Paris. Devono arrivare ancora i pezzi più importanti. e poi per quanto riguarda l'eccellenza l'alli corteggiato dall'Ovidiana. Ci fermiamo qui con queste edizioni di Mattino 6 che tornerà ovviamente domani mattina alle ore 8. Vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente. Le tre edizioni principali del TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie a Maurizio D'Agui in regia. Grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.